ehi shalawam 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 eccoci qui di nuovo a profetizzare la caduta di questo regno governato dai malvagi siamo qui a profetizzare ai malvagi che stanno governando in malvagità a profetizzare a tutte le nazioni e soprattutto ai figli di israele che sono i così chiamati negri nativi americani e latini e prima di iniziare vogliamo dare tutti i lodi dovuto al padre i nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great New Stone GMS che ci hanno insegnato questa verità che è una verità pura è la verità attraverso che arriveremo alla salvezza Ok? Pace e saluti agli eletti della casa di Israele che sono sparsi nei quattro punti della terra facendo questo lavoro in questi ultimi giorni. Portare il messaggio della libertà, del ritorno del nostro Messia, con lui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù, che il suo nome vero è Yehawashai. Ok? Sono nei quattro punti della terra predicando come è stato profetizzato nel libro di Matteo 24. Saluti anche alle poche sorelle che con sincerità cercano questa verità. Ora, siate su con lo spirito che la salvezza è vicino perché vediamo tutte queste profezie scritte da circa mille anni fa, duemille anni fa, tre mille anni fa. Li stiamo vedendo avverare adesso. E una cosa che dobbiamo capire, in questa verità, se non capiamo chi siamo è difficile fare un percorso con successo. Se non conosci chi è il tuo nemico, se non conosci chi è il tuo fratello, allora fai fatica perché sei portato con un vento come una...